E' una cosa strana, ma fuori dal mondo, completamente dissociati, dei dadaisti, male parole, erano unici. Dopo i Beatles, i Pink Floyd e Orietta Berti nacquero gli Squallor, fenomeno di successo, fenomeno di cesso, ma sempre un fenomeno era. Tutti correvano da loro, loro correvano dagli altri e si incontrarono. Quando non si videro più, dissero, ma dove sono andati a finire gli Squallor? Sono andati in bacca! Los curatones. Olé. Olé! 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 Allora vigevo una censura terribile, non si poteva dire niente, non si poteva scrivere nulla. Allora, radio e televisioni erano rai, rai. E dunque per gli autori era un grosso handicap. La censura ha censurato o rimasto solo, è una canzone del 63. Come non si poteva dire niente, loro hanno detto tutto. Mi senti un affare durissimo in mano e lo strettei fortissimo e lo pigliei. La censura non ce ne fregava nulla. Ma stava di divertirsi no? Un pezzo di carne sembrava un filetto che non si trova più neanche alla macelleria del toros. Squallone era formato da grandi produttori, da grandi autori di musica e di parole, grandi amici. Di chi entra nel gruppo c'è in giro pace, c'è A Man Without Love. Love me tonight. Don Jones l'ha incise ed è un successo strepitoso. L'Oscar è stato dato per un milione di trasmissioni televisive dove c'erano le mie canzoni e per Love me tonight che è la sigla di Las Vegas che è una mia canzone. Poi arrivava delle comunicazioni dall'Inghilterra, dalla Svezia e gli ABBA avevano inciso questi pezzi che erano andati prima in classifica. Allora non avevi l'idea della portata di un successo internazionale. Avicolone diceva va bene, va bene, ma non si riusciva a quantificare. Anzi, allora il successo grande era la regola. Era l'alba per la mattina di fuoco nella valle del Guatemala. Guatemala, Guatemala, Maremma Maiala. Guatemala, Guatemala, Maremma Maiala. Un genio della musica nel senso tra produzioni, autore. Quanti successi ha fatto? Quanti artisti ha tirato fuori? Personaggio colossale. In America ha avuto più di due milioni di passaggi televisivi di Gloria con Laura Brannigan e poi non dimentichiamo che Bigazzi ha fatto self-control. Questo self-control fu un successo veramente nel mondo, non è uno scherzo. Bla 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 Siamo tutti dalla televisione, allora ve lo posso dire con la televisione. Ciao. Cosa c'è ragazzo, su. Mi dai, Christopher Cross. Ah, una roba forte. Eh, sono cresciuto. Con questo ti passo tutto. Buonasera, Alfredo mi ha chiamato una volta. Come Ruti? In che senso, scusi. No, e volevo sapere se hai un bel suono. Eh, non lo so, ma di cosa? Il rutto, hai capito? Il rutto mi faceva. Insomma, sono andato in studio, mi ha messo davanti al Noe, ma al microfono, ha fatto una sezione di Ruti, il mio unico intervento come strumentista, con gli squalor. È strano fare queste cose davanti a quello che il giorno dopo magari ti boccia una canzone, perché all'epoca era così, eh. Alfredo Ceruti. Faceva il cazzarlo la sera, ma era un fortissimo. Se lui sentiva un successo lo beccava. Si fece firmare una lettera da Ladislao Sugar che gli vietava l'accesso in azienda prima delle 14. No, siccome noi frequentavamo i cantanti, che sono i peggiori scassacazzi mondiali… Questo condivido. E quindi noi, quando facevamo le squadre, ci sfocavamo contro i cantanti quelli seri, quelli che ti dicono, sai, perché la promozione non va bene, il disco non si trova nel negozio… Noi che pratica divenne i cantanti. E lì ci sfocavamo, contro i cantanti principalmente. Naturalmente, bazzicavano lì, soprattutto Daniele Pace. Lo conosce? Si. Si, lo conosco. Giancarlo Pigazzi. Ti vedo un po' commosso? Coinvolto, diciamo. Coinvolto. Totosadio. E lo stesso Alfredo Ciazzutti. Meglio di così non provate a fare. Non è vero. Ma ieri questi qua! Se te lo dico, tu fai una fila di merda, Antoni, perché questi erano fantastici! E di me, questi sono gli squallor!